Sindaco, allora continua il sit-in di protesta qui sotto al piazzale del Pincio, manifestazione a carattere continuativo per chiedere interventi da parte del Comune, ma anche dell'Ater, laddove possibile, sia per degli alloggi, ma soprattutto per lavoro. Si è registrato anche un caso disperato di un ex detenuto, un giovane di 25 anni, che si è cuscito i lembi della bocca. Quali risposte arrivano dal Comune? Sì, assolutamente. In questa situazione in particolare io avevo già parlato con questo ragazzo, gli avevo detto che i servizi sociali stanno per rimettere a bando le borse per gli ex detenuti, quindi l'avevo avvertito comunque che ci sarebbe stata da qui a breve questa possibilità, però lui è andato avanti con questa protesta. Io per carità rispetto, come rispetto la protesta qui sotto, anche se comunque sono tutte persone con cui ho già avuto modo di parlare, anche nel Consiglio Comunale Averto prima di Natale, insomma, spiegargli quello che stiamo cercando di fare anche insieme all'Ater. L'Ater ha emanato questo nuovo bando per l'acquisizione di terreni e anche di appartamenti singoli, quindi ci stiamo muovendo. Stanno trasformando dei locali che erano adibiti a magazzino ad utilizzo come attività produttiva, li stanno trasformando in alloggi. Noi con fatica, devo dire, abbiamo ricostituito la commissione RP perché non voleva prendere parte nessuno alla commissione e quindi stiamo elaborando la nuova gradatoria per poter andare ad assegnare nuove case. Siamo in contatto con la Fondazione Cassa di Risparmio per quanto riguarda la risoluzione del problema delle case a via Urbano Ottavo. Insomma, ci sono tante cose su cui stiamo lavorando, purtroppo non sono cose che risolvono il problema nell'immediato, io questo lo capisco. Però è pur vero che l'amministrazione della cosa pubblica funziona in questa maniera e funziona così per cercare di garantire tutti. È possibile una tempistica veramente diversa sui servizi sociali, almeno per dare risposte in casi eclatanti, così difficili? Ma noi risposte in casi eclatanti le daremo e le abbiamo già date, però ovviamente non abbiamo l'abitudine di metterci sui giornali quando facciamo queste cose. Per quanto riguarda chi strumentalizza la protesta qui sotto, allora ci sono effettivamente delle persone che hanno problemi e come ho già detto sono sempre state ricevute dal vice sindaco che si occupa di servizi sociali in particolare e sono sempre state ricevute dal sottoscritto. Purtroppo queste persone strumentalizzano queste situazioni a fini politici perché la loro storia parla chiara lo hanno sempre fatto. Non sono certo io che li scopro oggi. Quindi ripeto, per quanto riguarda persone che effettivamente hanno problemi, noi cercheremo in tutti i modi di trovare una soluzione. Ma come stiamo già facendo, non c'è bisogno di fare proteste di questo tipo perché comunque già ci stiamo muovendo su tutti i casi, quindi non è necessario.